Il briefing? Hai capito almeno un 15% di quello che ti ha spiegato? Ho capito tutto, però è distinto che dopo magari un po' da poco. Hai svoltato le tasche? Sì, non ho niente. Perfetto, ok. Allora, bravissima, ti giri così e firi le gambe qui dentro. Bienvenida a tu reggio Emilia. Grazie. Cómo te llamas? Mara. Ok, Mara. E che è lo che haces qui? Che vas a fare ora? Ora? Mi vado a lanciare. Ta' bene. E come te sientes? Agitata. Agitata, è normale. Adrenalina. Ta' bene. Bueno, quindi buon volo e ci vediamo nel cielo. Certo che sì. Sì! 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 Anche qui ci fa... Il decone l'abbiamo fatto! Sì, dai! Sì, dai! Sì, dai! Sì, dai!